buona domenica a tutti nuovo reddito di cittadinanza giugno 2024 questa è la domanda che in tantissimi mi stanno ponendo da diversi giorni ragioniere ma è vero che a giugno ritornerà nuovamente il reddito di cittadinanza e adesso vi spiego in realtà di cosa si tratta tantissime volte vi ho detto non vi limitate a leggere solo il testo scorrete nella pagina e andate a leggere perché molte volte si legge un titolo ma all'interno ci si trovano altre notizie infatti io che cosa ho fatto visto che tante persone mi hanno scritto ma veramente tantissime ma è vero che a giugno ritorna il reddito di cittadinanza a giugno ritornerà il reddito di cittadinanza le persone che non ho che non sono rientrate in adi ci sarà il ritorno allora ovviamente nasce anche a me la curiosità di andare a verificare se è vera questa notizia o è una notizia falsa infatti mi sono andato a documentare ho letto su alcune pagine web nuovo reddito di cittadinanza ovviamente a differenza di molte persone mi sono andato a leggere l'articolo completo alla fine il nuovo perché dicono nuovo reddito di cittadinanza giugno non è inteso come il ritorno del reddito di cittadinanza bensì nuovo perché l'assegno di inclusione adi ha preso il posto del reddito di cittadinanza e lo si va a spiegare perché le date per i pagamenti sono uguali 15 27 prima ricarica straordinaria poi quella ordinaria quindi diciamo che non c'è nessun nuovo reddito di cittadinanza previo previo ricariche ancora che stanno arrivando sulla vecchia carta gialla per coloro che avevano ancora dei pagamenti da ricevere tipo come assegno unico arretrato o magari qualche pagamento a conguaglio e qui moltissime persone ancora mi ringraziano perché li ho invitati a non cestinare la carta proseguo perché poi c'è ancora una notizia e questa invece è una notizia vera il ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno pubblicato una relazione per la valutazione del reddito di cittadinanza il 13 giugno non mi prolungo a farvi una testa di chiacchiere ma vi do direttamente il concentrato il succo di quello che si dice in questa relazione per la valutazione del reddito di cittadinanza circa un milione attenzione un milione di famiglie bisognose che percepivano il reddito di cittadinanza classificate come famiglie bisognose che sono arrivate fino a dicembre a prendere il reddito nuclei inoccupabili oggi sono senza reddito di cittadinanza sono senza assegno di inclusione a di perché sono cambiati i parametri di valutazione perché hanno messo una il reddito patrimoniale più basso a 6 mila euro ma oltretutto oltretutto è cambiata la scala di equivalenza mentre prima veniva inserito nel calcolo della scala di equivalenza l'intero nucleo con l'assegno di inclusione adi non è così ed è quanto pubblicato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali il 13 giugno 2024 magari chi può a chi può interessare lo può vedere può vedere quello che ha pubblicato il ministero del lavoro in virtù del reddito di cittadinanza ammettendo che ha funzionato molto meglio rispetto all'assegno di inclusione adi